Come sempre si dice, il premio De Cecco per la pasta dell'anno, ovvero al ristorante e al cuoco che meglio ha interpretato e valorizzato la pasta italiana va al Do di Davide Oldani. E lo consiglia Gianni a Leonardo, grazie, De Cecco devo dire da sempre, nostri amici e sostenitori, vuole dire irrinunciabili.